Musica Ben ritrovati, partiamo oggi con una nuova rubrica dedicata alla salute e alla sanità, il medico a casa tua. Sono argomenti che interessano un po' tutti perché la salute ci interessa tutti e approfondiamo un po' dal punto di vista del paziente con alcuni medici che incontriamo all'ospedale Sacro Cuore di Negrar. Iniziamo con il dottor Filippo Alongi, benvenuto, direttore della radioterapia oncologica dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Che cos'è innanzitutto la radioterapia? Grazie per la domanda, è molto importante parlare di radioterapia perché la radioterapia rappresenta una delle discipline nell'ambito oncologico di maggior rilievo e di impatto per la storia del paziente. In particolare un paziente con una diagnosi di cancro è possibile che abbia nel suo percorso un incontro con lo specialista in radioterapia e soprattutto un trattamento di radioterapia. Si calcola che circa il 40-50% dei pazienti oncologici sarà destinato ad un trattamento di radioterapia. Quindi se vogliamo capire cos'è la radioterapia, semplicemente possiamo dire che è l'utilizzo ragionato delle radiazioni mirate su una sede corporea con la finalità ovviamente di eradicare, debellare il tumore o almeno di controllarne i sintomi. Quindi se non di guarire, di migliorare la qualità di vita. Ecco, in che modo si differenzia dalla chemioterapia? Sì, questa è una domanda che spesso ci fanno i pazienti, nell'arco del loro percorso spesso sono sottoposti all'intervento chirurgico, alla chemioterapia e poi o prima alla radioterapia. Diciamo che il trattamento medico, rappresentato principalmente dalla chemioterapia ma non solo, è un trattamento che ovviamente agisce su diverse sedi corporee. La radioterapia invece, un po' come la chirurgia, è un trattamento mirato. Quindi noi indirizziamo le radiazioni su una sede corporea e solo su quella sede possiamo esplicare e espletare il nostro obiettivo che è quello ovviamente di colpire il tumore riducendolo o, come dicevo prima, eradicandolo oppure cercando di ridurre l'effetto e l'impatto che possono dare sui tessuti vicini e quindi dando beneficio in termini di sintomi. Quindi se volessimo semplificare, il trattamento sistemico su tutto il corpo, il trattamento farmacologico, nella fattispecie la chemioterapia, il trattamento locale può essere chirurgia o può essere radioterapia. Ecco, che tipo di apparecchiature vengono usate per questo? Allora, diciamo che in radioterapia esistono diversi tipi di approcci. Gran parte dei centri di radioterapia utilizzano degli acceleratori lineari. Quindi gli acceleratori lineari sono delle macchine in grado di erogare delle alte energie di radiazioni, principalmente raggi X, che sono sostanzialmente gli stessi che vengono utilizzati dall'attacco o dalle radiografie diagnostiche, ma con una intensità, una energia notevolmente superiore, soprattutto con una precisione estrema, in modo da raggiungere la sede da colpire. Queste apparecchiature sono delle apparecchiature molto complesse, e quindi necessitano di una integrazione sostanziale tra diverse figure. Quindi ci siamo noi, specialisti in radioterapia oncologica, ci sono i nostri fisici sanitari che si occupano della gestione e dell'assicurazione di qualità, cioè che queste apparecchiature funzionino come noi vogliamo e con delle garanzie precise. Spesso ci sono anche degli ingegneri che ci affiancano, e quindi diverse figure, oltre ai tecnici, che poi eseguono il trattamento. Quindi si tratta di un'equipa articolata. Assolutamente, articolata, costituita da medici, da infermieri, da fisici, da tecnici, e quindi capisce un lavoro molto complesso. Ma allora vediamo come si svolge l'attività nel reparto di radioterapia oncologica con questa scheda. Quando si è accorto di questo problema? Negli ultimi mesi? Si è accorto un anno fa e cominciamo a avere dei piccoli problemi di salute. E quindi poi ho incominciato a fare tutti gli accertamenti e tutto quanto. La prima fase è rappresentata ovviamente dalla visita clinica, durante la quale noi effettuiamo l'anamnesi del paziente, raccogliamo la documentazione, effettuiamo ovviamente la visita clinica e si identifica quello che è l'obiettivo ovviamente del trattamento. La seconda fase è rappresentata invece dalla TAC di simulazione, che avviene in questo ambiente. Abbiamo un lettino. La posizione che viene scelta, ed è questo il motivo per il quale si chiama TAC di simulazione, è esattamente quella che il paziente assumerà durante tutte le sedute del trattamento. Quindi viene simulato quella che sarà la posizione del paziente durante tutte le sedute che verranno effettuate dal paziente. Dopo la TAC di simulazione noi andiamo ad analizzare le immagini che vengono qui acquisite e identifichiamo la sede da trattare. Il paziente è posto ovviamente in una posizione particolare a seconda del tipo di trattamento che andiamo ad effettuare e nel caso specifico effettueremo un trattamento a livello polmonare. La durata della TAC di simulazione è estremamente breve. Di solito in 10 minuti noi acquisiamo le immagini TAC. A seconda del tipo di trattamento che andremo a effettuare ci sarà una preparazione differente. Nel caso specifico dovendo trattare una lesione polmonare non è necessario l'utilizzo di un mezzo di contrasto e quindi il paziente in 10 minuti riesce a completare l'intera fase di simulazione. Dopo qualche giorno il paziente viene nella sala di trattamento. Qui siamo nella sala dove viene eseguito effettivamente il trattamento che noi abbiamo pianificato e programmato per il paziente. Questa apparecchiatura che è un acceleratore lineare di ultima generazione permette di erogare delle radiazioni che vengono indirizzate con precisione millimetrica sulla sede di trattamento. Come si può vedere il paziente assume esattamente la stessa posizione che noi abbiamo scelto durante la fase della TAC di centratura. È un trattamento assolutamente indolore. Ha una durata media di circa 15 minuti. Prima di eseguire il trattamento noi acquisiamo delle immagini simil TAC. Come si può vedere dalla rotazione della macchina intorno al paziente. Queste immagini vengono confrontate con quelle della TAC di simulazione e il trattamento viene eseguito con precisione millimetrica. Allora abbiamo visto da questa scheda, tra l'altro ringraziamo anche chi si è prestato come modello. Non era un vero paziente. Era uno dei nostri collaboratori. Esatto, esatto. Quanto sia importante la prima fase che è quella dell'ascolto del paziente e della sua storia. Perché è così importante questa fase? Allora, spesso si pensa che il lavoro in radioterapia oncologica sia un lavoro prettamente tecnologico, che si utilizzino queste importanti apparecchiature e che il tutto si svolga diciamo in modo quasi rigido. In realtà dietro c'è molto la componente, è molto importante la componente emotiva. Nel senso che noi dobbiamo inquadrare non solo la sede che dobbiamo trattare, ma principalmente il paziente. Le nostre competenze oncologiche ci permettono di contestualizzare la zona e la sede della malattia nel quadro di una malattia oncologica complessa. Malattia oncologica che spesso ha una storia complessa, che spesso è associata a dei sintomi, a degli aspetti, a delle altre patologie concomitanti. Quindi è importante, prima di tutto, visitare il paziente e avere del paziente tutte le informazioni indispensabili per poter poi capire il miglior trattamento. Perché la nostra finalità è quella di dare un trattamento che possa essere più personalizzato possibile, cioè che possa essere più calato in quelle che sono le caratteristiche non solo della malattia, ma del paziente che ha quel tipo di malattia. Ci puoi spiegare meglio qual è la caratteristica, la formazione del radioterapista oncologo? Certo. Sembra un tecnico, in realtà ha una formazione molto vasta. Spesso, anche qui, si pensa che utilizzando queste apparecchiature sia un lavoro quasi rutinario e meramente tecnologico. In realtà lo specialista in radioterapia oncologica è fondamentalmente un oncologo. È un oncologo perché deve avere le conoscenze della malattia oncologica che è la principale patologia che tratta. E quindi è importante che nell'ambito del percorso formativo degli specialisti in radioterapia oncologica ci possano essere elementi di oncologia, elementi di medicina interna, ma anche di diagnostica. Perché noi lavoriamo sulle immagini, oltre che sul paziente, e su queste immagini dobbiamo avere una competenza nell'interpretare la sede da trattare e gli organi sani da escludere, che può avere solo una persona che sa leggere oltre alle lastre anche la malattia, quindi il tumore, ma che ha anche delle competenze da diagnosta. Quindi diciamo che è una specializzazione molto complessa che deve necessitare di competenze spesso abbastanza ampie. Per che tipo di tumore viene utilizzata di solito la radioterapia? Sì, diciamo che la radioterapia può entrare nella storia oncologica del paziente in tre momenti. Può essere il trattamento esclusivo o definitivo, cioè un trattamento che ha la finalità di guarire il paziente. E allora un esempio classico può essere il tumore della prostata, dove abbiamo dei tassi di controllo di malattia o di guarigione che sono totalmente sovrapponibili a quelli dell'intervento chirurgico. Un'altra sede, ad esempio, può essere il tumore della laringe. Anche qui, quando localizzato, abbiamo la possibilità di conservare l'organo e quindi di garantire una integrità anatomica del paziente dando gli stessi tassi di risposta, le stesse percentuali di guarigione che hanno i pazienti che vengono sottoposti ad interventi chirurgici che possono essere in alcuni casi anche più invasivi o addirittura demolitivi. Quindi può essere un trattamento a scopo definitivo o di guarigione sostanzialmente oppure può essere un trattamento che si aggiunge, si integra ad altri trattamenti. Spesso si parla di radio-chemioterapia. Nei tumori localmente avanzati, cioè nei tumori che hanno una propensione a uscire dalla sede dalla quale originano, è importante associare spesso la chemioterapia concomitante o alternandola con determinati cicli di chemio-radioterapia al fine di avere un controllo locale ma anche una possibilità di controllare a distanza la malattia e quindi la sinergia della chemioterapia insieme alla radioterapia è di agire su bersagli diversi magari nello stesso momento. O infine, molto importante, il ruolo della radioterapia ad esempio insieme alla chirurgia, subito prima o subito dopo. Un esempio molto comune è quello della radioterapia nel tumore della mammella. Dopo un intervento conservativo in cui si garantisce il profilo femminile e si evita la cosiddetta mastectomia quando è possibile, si asporta il nodulo più un tessuto vicino alla sede di malattia ma è necessario e indispensabile aggiungere quasi sempre una radioterapia che ha la finalità di sterilizzare il letto operatorio e tutto il tessuto attorno a dove è agito il chirurgo proprio per minimizzare il rischio che la malattia possa ricomparire. Quindi anche qui sintetizzando la radioterapia può essere utile e curativa da sola, può essere associata ai farmaci oppure può essere diciamo sequenziale o anticipatoria di una chirurgia proprio con finalità sostanzialmente diverse ma come vede tutte valide nell'obiettivo finale che è quello di guarire alla fine i pazienti o di migliorarne la qualità di vita. Ecco, i pazienti in quali condizioni devono essere prima di iniziare un ciclo di radioterapia? Allora diciamo che il nostro è un trattamento quasi sempre ambulatoriale, cioè i nostri pazienti si recano al servizio o alla unità operativa di radioterapia come abbiamo visto dal filmato dopo una serie di fasi preparatorie effettueranno delle sedute di radioterapia. Queste sedute spesso durano pochi minuti e quindi i pazienti di solito sono abbastanza autonomi e non necessitano di ricovero o di accorgimenti maggiori come ad esempio avviene per la chirurgia o per altri tipi di trattamenti. Talvolta i pazienti invece sono ricoverati e in collaborazione con l'oncologia o con altre degenze ci vengono inviati per fare delle sedute, quasi sempre sedute con finalità palliativo, antalgica o diciamo di diversa natura e fanno il trattamento quei pochi minuti e poi rientrano nei loro reparti di origine. È doloroso il trattamento? Il trattamento non è assolutamente doloroso, questa è una cosa che spesso chiedono i nostri pazienti. Io posso assicurare che la radioterapia utilizzando delle radiazioni che di per sé non sono dolorose anche se hanno un'energia e un'intensità molto elevata non sono motivo di dolore. Anzi spesso la radioterapia è utilizzata in senso opposto per lenire il dolore, spesso determinate sedi di malattia magari alcune sedi metastatiche possono infiltrare, comprimere alcuni nervi e quindi creare il dolore diversi livelli di dolore magari spesso non responsivi ai farmaci antidolorifici o farmaci di altra natura la radioterapia può intervenire in questo momento andando a decomprimere, ridurre l'effetto di infiltrazione e quindi dare un giovamento, un beneficio dal punto di vista del sintomo dolore che come dicevo è più probabile che si riduca. Ecco, il paziente deve seguire un'alimentazione particolare durante questi trattamenti? C'è qualcosa che può fare? Dipende ovviamente dalla sede che noi trattiamo, ad esempio un trattamento prostatico è un trattamento nel quale è importante avere alcuni accorgimenti come esempio una zona intestinale rettale che sia libera o l'assenza di gas o di altre componenti che possono creare delle problematiche nella riproducibilità della sede anatomica che dobbiamo colpire o ad esempio abbiamo altre sedi come esempio i trattamenti addominali in cui consigliamo delle diete particolari per ridurre ad esempio una mobilitazione intestinale eccessiva per intenderci un po' di diarrea o ad esempio un po' di nausea quindi spesso le nostre infermiere danno, consigliano dei cibi adeguati o delle diete particolari per minimizzare queste variabilità o per ridurre il rischio che possano esserci dei sintomi accessori alla radioterapia proprio legati magari ad alcuni cibi. E con queste radiazioni non si resta poi radiattivi? Anche questa è una domanda molto frequente da parte dei pazienti o soprattutto dei parenti spesso abbiamo magari dei pazienti che sono a contatto con dei bambini penso ai nonni con i nipoti o ai genitori di per sé la radioterapia che noi utilizziamo è una radioterapia a fasce esterni quindi queste apparecchiature dall'esterno veicolano le radiazioni all'interno del tumore ma nel momento in cui il paziente scende dal lettino e si apre la porta della nostra sala di terapia lui è assolutamente in assenza di radiazioni è un po' come quando ci facciamo una radiografia del torace o un attack nel momento in cui il paziente termina la procedura non porta con sé nessun tipo di radiazioni. Quanto si è evoluta nel tempo la radioterapia? In questi ultimi anni penso che abbia fatto dei passi avanti importanti anche con macchinari che riducono i tempi di trattamento. Sì, diciamo che la radioterapia soprattutto negli ultimi 10-15 anni ha avuto un'evoluzione tecnologica importante e questa evoluzione tecnologica ci ha consentito innanzitutto di essere più precisi quindi la nostra è una radioterapia che è in grado di avere spesso una precisione millimetrica o alcuni dicono sub-millimetrica proprio perché siamo in grado di identificare la sede di trattamento e su quella sede di trattamento siamo in grado di essere precisi e quasi come il chirurgo utilizza il bisturi e quindi fa un taglionetto vicino al tumore noi con le nostre radiazioni siamo in grado di disegnare la radiazione e veicolarla con una elevata accuratezza. L'accuratezza è anche consentita da sistemi di imaging per utilizzare un termine anglosassone cioè abbiamo dei sistemi di immagini a bordo poco prima o durante la seduta di trattamento che anche qui ci permettono di vedere dove stiamo colpendo e quindi ci consentono di correggere eventuali alterazioni della posizione corretta del paziente o delle condizioni anatomiche come dicevo prima nel trattamento della prostata una vescica non adeguatamente posizionata in modo da essere riproducibile sarà vista in modo preciso durante prima della seduta e quindi potremmo intervenire facendo riempire adeguatamente la vescica e quindi semplicemente facendo bere il nostro paziente e ottenendo la condizione idonea al fine di ridurre il più possibile gli effetti collaterali e far sì che il nostro obiettivo in questo caso la sede tumorale prostatica venga colpita nel migliore dei modi. Ma avete apparecchiature che fanno sì che si riducano anche il numero delle sedute si riduca il numero delle sedute? Diciamo che l'evoluzione tecnologica e questa precisione di cui le parlavo ci ha consentito di ridurre il numero di sedute ridurre il numero di sedute per molte patologie pensiamo, le faccio due esempi, il tumore della mammella il tumore della mammella viene trattato dopo l'intervento chirurgico è stato trattato solitamente con un numero variabile di sedute che vanno da 25 a 30 grazie ad alcuni schemi siamo in grado di dimezzare il numero di sedute del trattamento mammario avendo lo stesso tasso di controllo di malattia e avendo la stessa tollerabilità e quindi lei capisce che rispetto alle 30 sedute per una paziente venire la metà delle volte consente di ridurre anche le problematiche logistiche spesso si tratta di pazienti che vengono da altre sedi che non sono vicini al centro di radioterapia e quindi in questo modo riusciamo in un certo qual modo a venire incontro alle esigenze del paziente garantendo però la stessa sicurezza e lo stesso livello di tollerabilità Siamo quasi in chiusura, che conseguenze negative ci possono essere per questi trattamenti sui pazienti? Certo, diciamo che la radioterapia essendo un trattamento spesso efficace deve necessitare di dosi molto elevate di radioterapia di radiazioni indirizzate sulla sede del tumore Nonostante la precisione di cui le ho parlato talvolta ci sono delle condizioni anatomiche che non possono non coinvolgere determinati organi vicini alla sede tumorale e quindi sviluppare su queste sedi dei fenomeni irritativi o fenomeni infiammatori e quindi questi fenomeni infiammatori o irritativi possono ripercuotersi sulla qualità di vita del paziente con dei sintomi che possono andare dal bruciore al dolore o qualche volta anche a sintomi funzionali come la diarrea o diciamo in base ovviamente all'organo che viene coinvolto E' chiaro che qui sta il ruolo del radioterapista oncologo come clinico nel seguire i pazienti noi vediamo questi pazienti settimanalmente se non quasi tutti i giorni e quindi siamo in grado seguendoli durante le loro fasi del trattamento anche di anticipare eventuali sintomi in fase iniziale e trattarli in modo adeguato con delle terapie di supporto al fine di consentire la conclusione del trattamento senza interruzioni ma soprattutto di garantire una qualità di vita che faccia sì che il paziente completi il proprio percorso raggiunga la dose efficace per curare il nostro tumore avendo pochissimi o nessun effetto collaterale E' quello che ci auguriamo tutti l'efficacia e la migliore opportunità di salute per tutti Grazie al dottor Filippo Alongi direttore della radioterapia oncologica dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar Grazie a lei e con il medico a casa tua ci vediamo alla prossima puntata Grazie a tutti